Come sarebbe una vita senza pubblicità? Alcuni tra i più moderni artisti hanno sviluppato software capaci di eliminare almeno virtualmente marche e proposte commerciali da ciò che normalmente vediamo. La proposizione chiave è realtà diminuita, una nuova forma di arte digitale che si contrappone alla realtà aumentata che applica a smartphone e videocamere le più recenti tecnologie per eliminare virtualmente dal campo visivo insegni e cartelloni pubblicitari. Jeff Cruz, artista new yorkese, ha sviluppato un programma capace di identificare i marchi aziendali all'interno di un flusso video, per esempio generato dalla telecamera di un cellulare, e sostituirli con qualcosa di altro. L'ultima versione del suo software visualizza al posto dei loghi delle aziende la faccia del rispettivo amministratore delegato. Julian Oliver, invece, un designer di Berlino, si è spinto oltre e ha realizzato un paio di occhialetti elettronici che una volta indossati sostituiscono i cartelloni pubblicitari con vere e proprie opere d'arte. Questo modo di reinterpretare i marchi aziendali offre agli artisti un mondo nuovo, potente e non distruttivo per comunicare.